Papa Francesco ha lasciato gli Stati Uniti salutando il Comitato Organizzatore, i volontari e i benefattori dell'incontro mondiale delle famiglie di Filadelfia. Si è augurato che queste giornate incoraggeranno le famiglie a continuare a impegnarsi per la santità e a vedere la Chiesa come una compagna fedele qualsiasi prova dovranno affrontare. Salutando il Vice Presidente Biden, il Pontefice ha ricordato che questa terra è stata benedetta con enormi doni e opportunità. Prego, ha aggiunto affinché siate buoni e generosi custodi delle risorse umane e materiali che vi sono state affidate. Salito in aereo per entrare a Roma, nella consueta conferenza stampa con i giornalisti che lo hanno seguito per tutto il viaggio, Papa Francesco si è detto sorpreso dell'accoglienza calorosa degli americani, un po' formale a Washington, stralipante a New York, molto espressiva a Filadelfia. Ho visto pregare la gente e la loro religiosità mi ha colpito. Poi è tornato sugli abusi sessuali su minori compiuti da sacerdoti, spiegando di aver espresso vicinanza ai vescovi perché molti di loro, veri pastori, hanno sofferto molto, ma l'abuso resta un sacrilegio, un tradimento della vocazione e sono colpevoli anche quelli che hanno coperto questi fatti. Sul grande successo nei media, il Pontefice ha ribadito che non si sente una star, ma il servo dei servi di Dio. Sulla crisi migratoria ha definito l'Africa il continente sfruttato, prima con gli schiavi, poi con le risorse, oggi con guerre che durano anni e hanno dietro interessi economici. Ma i murri non sono soluzioni, i ponti sì. Il Papa si è detto contentissimo per l'accordo di pace previsto per marzo in Colombia e che gli piacerebbe tanto andare in Cina, ama il popolo cinese e sarebbe una gran cosa avere amico un paese che ha una grande cultura. Sul vicino sinodo sulla famiglia, Francesco ha detto che i padri sinodali dovranno pensare a una preparazione al matrimonio migliore, perché si fanno solo quattro corsi per una cosa che dura tutta la vita. Il problema delle nuove unioni dei divorziati non è l'unico, c'è ad esempio quello dei giovani che non vogliono più sposarsi. Grazie. Grazie.